Grazie a tutti. Davide Gualtieri, sono un fotografo. Amo la fotografia concettuale e l'arte concettuale tutta. Mi voglio presentare attraverso le parole di Claudio Marra, storico e critico della fotografia. Convinti che taluni caratteri intrinseci della fotografia trovino una perfetta coincidenza nelle migliori intenzioni espresse dalla poetica dadaista, i nostri rilievi non possono che prendere avvio da taluni casi particolari, solitamente trascurati dalla tradizionale storiografia fotografica. Niente di meglio, allora, che iniziare da alcune prove dello stesso Marcel Duchamp, i cui rapporti con la fotografia furono in effetti assai sporadici e sicuramente anomali rispetto a quanto si è soliti riscontrare in un operatore organico del settore. Lo scarto è determinato dal fatto che con Duchamp ci si trova di fronte, forse per la prima volta, non alla classica figura del fotografo che tende all'arte, ma piuttosto a quella dell'artista che utilizza la fotografia. Questo, ovviamente, non significa che il fotografo o fotografo non possa essere considerato artista, ci mancherebbe altro. È però vero, e lo verificheremo spesso nel corso della nostra ricerca, che nei confronti del mezzo si sono dati atteggiamenti diversi, che sarà meglio chiarire una volta per tutte. Il fotografo-fotografo è, in genere, un operatore rigidamente legato alle specificità tecniche del mezzo e pensa di utilizzarle con opportuna maestria per produrre arte. Il suo atteggiamento è dunque sostanzialmente caratterizzato dal credere che esista un'artisticità della fotografia che marcia per proprio conto, con proprie regole, connesse a un utilizzo specialistico e sapiente degli strumenti. Per comprendere meglio quanto si sta dicendo, si pensi a come non esista, nella storia della fotografia, qualcosa di analogo alla revisione del proprio statuto che la stessa pittura ha operato nel novecento, disintegrando letteralmente il principio del saper dipingere o del dipingere bene. In fotografia nulla di tutto ciò è rilevabile. La sua artisticità, salvo pochi casi anomali, la cui bizzarria è stata peraltro funzionale al sistema, è sempre coincisa con un uso tecnicamente ineccepibile del mezzo. C'è stata chiaramente un'evoluzione stilistica, ma sempre entro i confini di un tecnicismo specialistico che non poteva prescindere da taluni principi operativi. Totalmente diverso è invece l'atteggiamento del cosiddetto artista che utilizza la fotografia, tanto che in generale la sua produzione appare caratterizzata proprio da un esplicito disinteresse per gli apparati tecnici, il cui buon utilizzo il fotografo-fotografo ritiene invece indispensabile per produrre arte. Esemplare in questo senso è la figura dello stesso Duchamp che, totalmente digiuno di conoscenze tecniche, ha delegato all'amico Merrey la realizzazione pratica delle proprie opere. In lui c'è dunque non solo il rifiuto di un buon utilizzo del mezzo, ma addirittura il rifiuto totale della manualità, tanto che nessuna storia della fotografia, a fronte delle straordinarie prove che ci ha lasciato, lo considera un autore fotografico. Grazie. La questione, ancora una volta, va ricondotta alla volontà della fotografia di accordarsi o meno con i principi generali dell'artisticità, perché è evidente che la scelta operata da Duchamp con la delega a Merrey risulta pienamente comprensibile e condivisibile solo se riportata a quella logica della contemporaneità, oltretutto da lui stesso inaugurata, che, privilegiando il piano della concettualità, non ritiene indispensabile per l'artista l'esercizio della manualità. La contraddizione e l'ambiguità hanno dunque contrassegnato l'intera parabola creativa di Merrey, caratterizzandola, comunque, almeno da un certo punto di vista, in modo sicuramente positivo. Non si può, per esempio, che dire bene della sua più volte dichiarata indifferenza nei confronti delle varie tecniche adottate. pittura, aerografo, ready-made, fotografia, erano, per lui, mezzi assolutamente interscambiabili, senza alcun privilegio o preferenza, perché comunque il senso profondo dell'opera restava legato all'idea e non alla tecnicità dei mezzi che l'avevano generata. Non si chiede mai ad un pittore quali pennelli usa o a uno scrittore che macchina per scrivere usa. Quel che conta è l'idea, non la macchina fotografica. e non la macchina fotografica. Grazie a tutti